Il giudice di pace di Rocca d'Aspide, la dottoressa Anna De Bartolomeis, ha accolto i ricorsi presentati da due automobilisti richiedendo l'annullamento di quattro verbali elevati della Polizia Municipale di Albanella con lo scout Speed, due le multe ricevute per 736 euro inflitte dai caschi bianchi con l'auto del contestato sistema di rilevazione della velocità mobile. Pertanto il giudice di pace ha annullato le quattro multe condannando al contempo il comune di Albanella al pagamento delle spese di lite per complessivi 306 euro oltre IVA. Le due sentenze rappresentano un riferimento certo per centinaia di automobilisti vessati dall'infernale autovelox. Brutte notizie anche per i comuni di Agropolis, San Cipriano e Picentino che hanno usato lo stesso autovelox e che adesso potrebbero ritrovarsi a dover rimborsare i tanti utenti. Brutte notizie anche per i comuni di Agropolis.